La focaccia prosciutto e formaggio cotta in padella è qualcosa di delizioso, la crosticina che si forma è qualcosa di irresistibile e racchiude un ripieno super goloso e filante. Ovviamente possiamo variare la farcia con il ripieno che più ci piace. La ricetta completa la trovate come sempre nel mio canale YouTube, tutti a tavola con uccia, consiglio di provarla, sono sicura, ve ne innamorerete al primo assaggio.